Salve, io sono il Moccia e io sono... sì, io sono... Ferral. Peter Moletto di Antignano e questo è il Meme Morti di Dario Moccia Twitk. Questo è il grave gruppo della Moccia. Baaah! Ciao la casa, ciao la casa, i guffi, i guffi, la doppio sciss, la speciale, la doppio sciss, la speciale, la doppio sciss, con i guffi. C'era la stessa di filosofia, non ce la faceva più. Dieti! Zitta, zitta. Bello, me lo ricordo, me lo ricordo che era un sitio. Zitta, zitta. Passi, beh? A se papiloi, io sapevo che le vai, la mer, sa che le plà. Tipo è così. Questo varie tutti i giorni insieme. Amore, lo aspetta, lo aspetta dietro, c'è bisogno di far così. Mi fai cannazze che parla di Becek, per favore. 20 anni fa, quando cominciai le lavorazioni di... Yungi si venghi di un? Yungi si vengono. Il manga. Yungi si vengono. Yungi si vengono. E' stato 3 euro di scemaso e va da gondo di gazzata, è vero, sì. Mmm, queste pappardelle al cazzo sono veramente straordinarie. PSA 10? Gradabile? Si scherza, è una battuta, nooo. Ci mancherebbe. Sculo Federic? Mmm, 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 mmm... Mi dissocio. Mi dissocio. Adatto! Polizia! Buona! Buona ci sta! Ma è un crostone! È un crostone! è un crostone Paolo 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 musica a questo banchino a cosa serve NordVPN? a cosa serve NordVPN? allora praticamente quando ti fai un tè la sera per rilassarti e e non hai più le bustine e ci inzuppi le palle quello è NordVPN che è giocostino no ma si vocifera e si vocifera io ho sentito sta voce ma non ne sono certo si vocifera cioè si ipotizza anche volendo ma stavo trollando stavo trollando hola signor holbafo io sembro messicano ho capito hola signor sono simpatico sono simpatico sono tornato da scuola ho preso due la mia famiglia mi vorrebbe rinnegare per sempre ma ora vado su Twitch faccio una battuta e tutta la chat mi dirà grande gli hai detto hola signor sei un capo comico adesso sei amministratore moderatore amico di Dario puoi vivere da lui e puoi fargli addirittura il bidet la mattina bravo congratulazioni 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 sei lo scingi dei noartri grandissimo un grande un me lo guardate per favore ragazzi allora ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti